... Fantastico ragazzi! La strada che abbiamo fatto in salita, tutto il vallone, questa è la Porta Biecai, 1990 Adesso andiamo al lago Biecai, poi abbiamo... Direi di sì perché qua non ci sono zanzare. Fai Carlo che sei bello! Carlo hai una ripresa fantastica, non puoi lamentarti. Andiamo a vedere l'ambiente com'è. Ambiente alta montagna, molto selvaggio, naturale, poco frequentato. Andiamo a vedere l'ambiente com'è. Andiamo a vedere l'ambiente com'è. Saluta, sei su Candid Camera. La sofferenza, la sofferenza, la sofferenza. Il viso, il viso, il viso, guardate il viso, non il buon viso eh, il suo viso. Guardate, guardate, però è bello perché cammina su un sentiero ricco di fiori. Bellissimo. Lo tiravano così e lui camminava a cartoni così. Cammina, cammina, gli dicevano. Vitello, viene o no? C'erano dei genovesi che dicevano che non c'hanno una tetta. Ah, chi non c'hanno una tetta. Allora c'hanno, c'hanno la tetta e la tetta un bel po' eh. La tetta un bel 100 m di... Eh, ho già. Ci ha provato ancora. Eh, ci ha provato, ma basta. Ma non hanno portato. Il vitello ci sta una volta, poi basta, la seconda non prende più dentro. Ti capi, merlo. Il passo si estrera. Avete ascoltato? Il passo è breve. È stato ripreso dal telecamera numero uno. Sì, l'unico petto.